Lo serio sana la gente, il pubblico cosa vuole sapere? Perché molti non l'hanno ancora, sono ancora riusciti a capire. Ma Patrizio Oliva, il futuro è la canzone o c'è ancora il pugilato? Ma io penso di aver dato tanto al pugilato. La vita non è solo di sport. Una persona nella vita deve fare altre cose. Adesso, oltre al mondo del lavoro, mi sto cimentando nel mondo della musica. Mi piace tanto, spero di riuscirci come sono riuscito nel pugilato.